questa mattina 25 ottobre 2022 giorgia meloni ha fatto il suo primo discorso alla camera da presidente del consiglio ed ha chiesto la fiducia al governo tutti noi eravamo in attesa delle decisioni in merito al marchio verde e alla commissione d'inchiesta la risposta c'è stata ascoltate bene purtroppo non possiamo escludere una nuova ondata di covid o l'insorgere in futuro di una nuova pandemia ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti l'italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero occidente arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche ma nonostante questo è tra gli stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi qualcosa decisamente non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello l'informazione corretta la prevenzione la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti e l'ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee guida scritte da qualche burocrate quando si ha a che fare con pazienti in carne ed ossa e soprattutto se si chiede responsabilità ai cittadini i primi a doverla dimostrare sono coloro che la chiedono occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori l'italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero occidente arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche ma nonostante questo è tra gli stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi qualcosa decisamente non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello l'informazione è corretta la prevenzione la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti e l'ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee guida scritte da qualche burocrate quando si ha a che fare con pazienti in carne ed ossa il discorso mi sembra piuttosto chiaro ora va applicato voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale grazie a tutti